Dal bosco al camino, Italia Legno Energia scalda i suoi motori e infatti tutto pronto per la terza edizione della fiera dedicata al mondo del riscaldamento a legno e a pellet. Dal 22 al 24 marzo la manifestazione sarà ospitata all'Arezzo Fiere Congressi, pronta ad accogliere oltre 180 aziende. Veniamo negli anni disperi ad Arezzo perché è un territorio, quello della Toscana, avvocato per questo genere di merceologie, la più importante, la più grande superficie boschiva italiana e un quartiere fioristico ospitale che al centro logisticamente parlando quindi ci consente di esprimere al meglio un settore importante del Made in Italy che ha dei grandi numeri, che ha delle grandi potenzialità. In questa fiera si vedono stufe, caminetti, cucine, caldaie funzionanti di legno e pellet e devo dire anche che l'idea iniziale che era quella di una fiera interregionale è diventata, è stata superata, oggi è una fiera nazionale, abbiamo registrazioni da tutta Italia, mille pre-registrati che vengono dall'estero e quindi abbiamo anche la soddisfazione di poter dire di aver centrato un settore, un tema sul quale c'è molto interesse. C'è un format che ha riscosso un grande successo qui ad Arezzo nel cuore, come dicevamo prima, della regione più boscosa d'Italia quindi con un ancoraggio forte a quello che è il tema della manifestazione, che è la filiera del legno utilizzato ai fini del riscaldamento, quindi l'utilizzo del pellet, delle stufe a legna, dei caminetti, delle stufe a pellet. Il riscontro di questi anni, come dicevo, è stato molto positivo. Oltre 25.000 visitatori all'ultima edizione, 160 espositori. Sono numeri che pensiamo di superare, di bissare e non le nascondiamo che siamo particolarmente contenti di poter ospitare nel nostro quartiere fieristico questo format che è itinerante. Immostra alla Fiera di Arezzo il meglio della produzione internazionale di caminetti, stufe, caldaie, cucine e barbecue. Questo è il livello di manifestazioni che vorremmo promuovere nel prossimo futuro all'interno di questo bellissimo quartiere fieristico, efficiente, moderno, strategicamente posizionato. Quindi è questo il nostro ospicio, il nostro impegno per il prossimo futuro.